Avevo pensato che non avrei avuto bisogno di questo diario perché non avevo dei pensieri che avevo da scrivere. Prima della fine della lezione vorrei spiegarvi che cosa avevo in mente per domani. Pensate a un posto bello e un posto che voi amate molto e provate a dipingerlo con gli acquerelli. Un posto qualsiasi, un posto che voi avete nel cuore, uno scorcio, un valorama, un ponte. Chiara Go ne ha così tante di cose belle da mostrare. Grazie a tutti. Papà, mi accompagna a fare un disegno del posto più bello di Pioraco? Certo. Hai scelto proprio un bel posto, ma adesso sarò molto contento. E poi tu sei bravissima, vedrai, verrà benissimo. Ma no papà, non sono così brava. E poi questo posto è troppo bello per me. Ciao. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti